It's you and I Approfondimenti l'Election Day per l'Eddie domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di, dove gli oltre 200.000 abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Elezioni, i candidati sono 8 i candidati alla poltrona di primo cittadino di, Emilio Del Bono Paola Vilardi Guido Ghidini Laura Castagna Leonardo Peli Alberto Marino Lamberto Lombardi Davide De Cesare Emilio Del Bono il sindaco uscente. Emilio Del Bono è in corsa per il secondo mandato, appoggiato dalla coalizione di centro-sinistra formata da PD, 2030, per passione, civica del Bono sindaco, sinistra A, del Bono 2. 0. Paola Vilardi la coalizione di centro-destra presenta invece come candidato Paola Vilardi, sostenuta da Udici, Fratelli d'Italia, Il Popolo della Famiglia, X Civica, Forza Italia e Lega. Guido Ghidini per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il candidato scelto è Guido Ghidini. Laura Castagna La candidata Laura Castagna partecipa alle elezioni a con il sostegno della lista italiana Azione Sociale Forza Nuova. Leonardo Peli Il candidato Leonardo Peli corre per la poltrona di sindaco con la lista Il Bigio Pro Brixia. Alberto Marino Potere al Popolo ha invece portato alle elezioni Il candidato Alberto Marino. Lamberto Lombardi Il partito comunista italiano ha invece scelto di candidare Lamberto Lombardi. Davide De Cesare infine, il candidato di Casa Pau, Davide De Cesare. Davide De Cesare.